Buonasera, buonasera, insomma, non te la devi prendere, voglio dire, soggigna, ma invece come soggigna, a un modo inconsueto, è molto carina di passare questa festa del primo maggio, è stato quello di Silvana, che è come l'onda Silvana, cosa hai fatto? Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.